Gaetano, è un'ora che sei dentro, scendiamo? Un attimo! Sto creando un contatto falso su Instagram per vedere se Michela mi tradisce Che immaturità! Sti cazzini! Oggi lo fanno tutti eh! Perché se lei inizia a rispondere in maniera ambigua ad un perfetto sconosciuto Figuriamoci ad uno che le piace, figuriamoci! Ma sei proprio perso quella cottura del rispetto dell'altro che rende basati i rapporti di un tempo Ma è per questo che il mondo sta andando a rotoli Perché non c'è più fiducia, va tutti questi telefonini a controllare la ragazza Ma dai! Guarda io queste cose non le faccio e non le farò mai! No! Eh sì! No! Eh sì sì! No! Sì! Oh ma da che parte stai? Eh ma! Tu pure che andava con le amiche? Eh mamma quelle dicono tutte così! No mamma! Ma questo è proprio... No! Ma questo è proprio no! Puttana! Giusto! No! No! No!